Beatrice Luzzi riceve il suo primo tapiro d'oro da Striscia. La notizia. Alfonso Signorini e Cesara Bonamici me l'hanno fatta pagare. L'attrice Beatrice Luzzi è stata premiata con il suo primo tapiro d'oro da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia in seguito a una battuta di Alfonso Signorini durante l'ultima puntata del Grande Fratello. Il conduttore, rivolgendosi all'opinionista, ha commentato la conoscenza tra Shaila Gatta e Javier Martinez con una frecciatina «Tu sei un'esperta di piumoni, Beatrice». Questa battuta faceva riferimento al flirt che la Luzzi ha avuto l'anno scorso mentre partecipava al reality con Giuseppe Garibaldi. Beatrice Luzzi ha prontamente replicato, smettendo tutto «Non è successo nulla sotto al piumone», ha dichiarato, respingendo l'accusa a Signorini e aggiungendo «Secondo me, il vero esperto è lui. So che Alfonso l'ha fatto con leggerezza, ma io sono una signora e c'erano anche i miei figli in studio». Infine, con una sottile frecciata, l'opinionista ha concluso «Quando ho visto il tapiro tra le braccia di Alfonso e Cesara Bonamici, ho pensato che fosse il loro bambino. Me l'hanno fatta pagare». Grazie.